La soluzione di due stati diventi realtà e non rimanga un sogno. Arrivato in Israele dopo il congedo dalla Palestina all'aeroporto di Tel Aviv, Papa Francesco ha ribadito l'appello di Benedetto XVI per la pace e la sicurezza di Israele entro confini internazionalmente riconosciuti e perché sia ugualmente riconosciuto che il popolo palestinese ha diritto ad una patria sovrana a vivere con dignità e a viaggiare liberamente. Al presidente israeliano Shimon Peresh il pontefice ha rivolto l'invito già fatto a Betlemme e al presidente palestinese per un incontro di preghiera in Vaticano per invocare da Dio il dono della pace. Papa Francesco si è augurato che la Terra Santa, punto di riferimento spirituale per tanta parte dell'umanità, sia un luogo in cui non vi sia alcuno spazio per chi, strumentalizzando e esasperando il valore della propria appartenenza religiosa, diventa intollerante e violento verso quell'altrui. Il Papa ha poi deplorato con forza l'attentato antisemita di Bruxelles, definendolo criminoso atto di odio antisemita, e parlando della sua visita di lunedì allo Yad Vashem, il memoriale della Shoah, ha pregato Dio che non accada mai più un tale crimine. Promuoviamo è stato il suo invito un'educazione in cui l'esclusione e lo scontro lasciano il posto all'inclusione e all'incontro, dove non ci sia posto per l'antisemitismo e per ogni espressione di intolleranza verso persone e popoli. Grazie a tutti.